Giulia Schiff, Giulia Schiff è una donna, una donna che ha deciso di combattere, era stata cacciata dai militari per fenomeni di bullismo eccetera e ha deciso di combattere nell'esercito ucraino, donna coraggiosa perché comunque sia ci mette la faccia, come fece Churchill, no? Boots on the ground, quindi questi che parlano e speculano sulla faccia degli ucraini, cioè gli ucraini non sappiamo assolutamente cosa vogliamo, c'è la legge marziale quindi non sappiamo cosa vogliono davvero, c'è una parte dell'Ucraina che è filorusse, ci sono molte città che sono filorusse, tradizionalmente filorusse, nessuno lo dice, naturalmente lo dicono i media russi che vengono censurati tipo RTV, Russia Today, Russia One, quindi è impossibile avere informazioni dalla Russia, l'unica cosa è andatevi a vedere i video miei, ci sono dei network dove riesci a vedere delle televisioni criptate ma verranno chiusi secondo me a breve, quindi è uno scandalo questo, che i russi non possono informarsi, questa è la vera censura, non è la censura della Russia, è la censura dell'Occidente, della Nato, dell'America, di Marduk, di come si chiama, della piramide massonica, come si chiamano questi qua, non Marduk, dai l'altro, i Rock Shield che vogliono chiudere tutte le informazioni russe, cioè è una crociata, è una guerra fredda, dietro questa guerra c'è una guerra fredda tra Russia e America, tra Putin, tra Biden che ha voluto questa guerra e Putin che è la vittima in questo caso, la vittima sacrificale è Putin, la Nato ha fatto una semplice aggressione, Judith Schiff è una ragazza coraggiosa perché boots on the ground, combatte al fianco dell'esercito ucraino, se l'Ucraina è veramente offresa allora bisogna fare la guerra nucleare, cioè bisogna combattere, cioè bisogna farla, sarà la causa, però bisogna andare in guerra, no, scusa, ha ragione a questo punto il presidente ucraino che adesso ha ritrattato, va bene, lasciamo perdere, però se tu hai una ragione di orgoglio, l'Ucraina è vittima di un'aggressione, allora si va boots on the ground, come fece Churchill, no, come fecero i vostri idoli occidentali, no, boots on the ground, no, codardi, speculiamo sul popolo ucraino, non rendiamo l'Ucraina vittima e subiranno le conseguenze per le colpe dell'Occidente, per le colpe dell'Occidente che avrà sulla coscienza la morte di bambini, la morte di famiglie per colpa dei guerra fondai occidentali.